Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buonasera e buon campionato da Giampiero Foglia Manzillo. Comincia da Crotone, la Serie A del rivoluzionato Milan. Oltre 200 milioni per tornare a essere protagonisti assoluti, almeno sul mercato. Fischia Mariani, comincia il campionato di Crotone Milan. Poi il filtrante, pallone dentro. Attenzione, il tentativo di conclusione che si perde sul fondo, ma c'è il fischio di Mariani. Calcio di rigore, il fallo su Cutrone. Milan che ha subito la possibilità di passare. Il fischio di Mariani. La decisione dopo aver visto le immagini sul monitor. Ed è cartellino rosso, cambia così la decisione. Parte Livoriano. La battuta con il destro. Pallone in porta, angolatissima. Cordaz intuisce ma non basta. E il Milan al sesto minuto è in vantaggio all'uscita. Dentro per Borini, pugni di Cordaz a chiudere in angolo. Il filtrante adesso a cercare Suso. Finte, area di rigore, lato corto dal fondo. Prova a mettere in mezzo, morbido. Il colpo di testa è nel raddoppio Milan. La firma di Patrick Cutrone. Si conferma in un momento eccezionale. L'attaccante 19enne. Morbido a cercare Budimir. La lascia rimbalzare. Con il destro, la frenata. Attaccato da Bonucci. La conclusione, la risposta di Donnarumma. Cialanolu. Palla dentro. A cercare Cutrone in posizione regolare. Suso col sinistro. E arriva il Tris. 23 minuti. La firma di Suso per il 3-0 del Milan all'uscita. Si riparte all'uscita. Lo scambio con Chessi. 1-2. Cutrone si allunga il pallone. Prova la conclusione col mancino. Pallone sul fondo. Senza deviazione. Un gol e un assist per l'attaccante 19enne. Che lascia spazio adesso ad Andre Silva. Palla, giro. Il colpo di testa. Il miracolo di Kordaz sulla conclusione di Andre Silva. Prende benissimo il tempo il portoghese. Vola il capitano degli squali a deviare la conclusione. Il palleggio profondo a cercare Andre Silva. La chiusura di Mandragora. Suso con il destro. La frenata la tiene col mancino. Palla dietro per José Mauri. La risposta di Kordaz. Ancora una volta attentissimo. Appena entrato in campo il 4 del Milan. Prova a mettere la firma sul match dell'uscita. Corre dall'altro lato Cialanolu che si è ripreso alla grande dall'infortunio precedente. La controlla adesso. Prova il cross. La botta. E ancora una volta la risposta di Kordaz. Prova il cross. Budimir il controllo col sinistro. Pallone a lato. La rincorsa di Barberis. Vola. Donnarumma e mette il pallone sopra la traversa. La partita all'uscita. Finisce qui. 3-0 per il Milan.